Questa presentazione è trasmessa grazie agli amici del Ministero di Amazing Facts. Al contrario della credenza popolare che i fulmini non colpiscono mai due volte lo stesso posto, si sa in realtà che colpiscono oggetti, persino persone più volte, durante temporali di forte intensità elettrica. Durante un temporale, per esempio, l'Empire State Building di New York fu colpito 15 volte nell'arco di 15 minuti. Qualche volta, un singolo fulmine può essere formato addirittura da 42 scariche elettriche che colpiscono lo stesso punto in una successione così rapida che sembra un solo lampo, ma accade in meno di un quarto di secondo. I lampi da una nuvola all'altra sono anch'essi molto comuni e, secondo le registrazioni, riescono a saltare per 20 miglia da una nuvola all'altra. Ma sia che i lampi si muovano da una nuvola all'altra o da una nuvola al terreno o dal terreno a una nuvola, è difficile perdersi il bagliore brillante che illumina il cielo. In Matteo 24 Gesù dice, infatti come il lampo esce da levante e sfolgora fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Nonostante queste parole, alcuni ancora credono che il suo ritorno avverrà in segreto. Beh, qual è la verità? Seguitemi amici perché daremo un'occhiata da vicino a quello che la Bibbia dice davvero sul ritorno di Cristo. Parleremo del tema del ritorno di Cristo nella nostra presentazione di stamattina e lo facciamo nel contesto dell'anniversario della riforma. Non so se lo sapete, ma Martín Lutero, Melantone, Filippo Melantone e molti altri riformatori credevano in quella che è chiamata la grande settimana del tempo. Credevano che la storia dell'uomo sarebbe durata circa 6.000 anni e poi avremmo passato mille anni col Signore in cielo. E poi a quell'epoca la terra sarebbe stata purificata e tutte le cose rese nuove. La sua datazione era un po' sbagliata riguardo all'età della terra, sommando le età della Bibbia, ma molti di loro ci credevano. Uno dei fondatori del nostro movimento, J.N. Andrews, scrisse un libro sulla grande settimana del millennio o la settimana del tempo. E in pratica quello che sosteneva era che a causa del versetto in secondo, Pietro capitolo 3, versetto 8, Pietro sta anche citando il Salmo in cui si dice, poiché mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato. Pietro dice, per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Quando sommiamo le età della Bibbia, non le sappiamo con esattezza, quindi non usatelo come metodo per stabilire una data. Ma sapete, circa nel 4000 a.C. fu creato Adamo e questo inizia a darci un periodo di tempo. Per quanto tempo è vissuto Adamo e quanto tempo è vissuto Seth e quanto tempo è vissuto Enoch e via fino a Noè. Poi ci sono delle ambiguità, ecco perché non sappiamo le date esatte. Si dice che Noè ebbe Sam, Cam e Japheth e a meno che non fossero tre gemelli, ecco perché non sappiamo esattamente quando è successo. Poi si continua con Abramo e possiamo rintracciare la storia in modo abbastanza accurato, da Abramo all'Esodo fino ai giorni nostri. Gli ebrei erano molto bravi a conservare una cronologia attenta. Gesù è nato circa nel 4 a.C. ed è interessante perché Adamo è stato creato circa nel 4004 a.C., secondo la cronologia del Vescovo Asher. Abramo è nato nel 2004 a.C. Gesù è nato nel 4 a.C. Oggi viviamo circa 2000 anni dopo Cristo e poi verrà Gesù e vivremo nel suo regno per mille anni. Ci sono tre grandi epoche. C'è l'epoca dei primi 2000 anni dalla creazione ad Abramo, si chiama l'era dei patriarchi, si parla delle tre epoche che vedete nella Bibbia. Dio predicò il Vangelo attraverso i patriarchi, non erano ebrei all'epoca. Sono Noè, Enoch, Matusalemme e così via. Poi nacque Abramo e per i seguenti 2000 anni Dio predicò il Vangelo attraverso gli ebrei, gli israeliti, il suo popolo e Dio aveva dedicato loro gli oracoli della verità e il Messia arrivò da loro. E poi abbiamo gli ultimi 2000 anni in cui Dio annuncia il Vangelo al mondo attraverso la Chiesa o Israele spirituale e poi verrà Cristo e vivremo e regneremo con Lui per circa mille anni. È quasi come un sabato di mille anni. E poi crea nuovi cieli e una nuova terra. Si vede questo schema in tutta la Bibbia. Sapete, la nuova Gerusalemme discende come una sposa. Beh, Giacobbe si sposò dopo sette anni di lavoro per Labano, per avere Rachele. Vedete quante volte Giosuè ha marciato attorno a Gerico? Sette volte? No, sbagliato, tredici volte. Lo dicono tutti. Una volta per sei giorni e poi dopo i sei giorni, il settimo giorno marciarono sette volte, suonarono le trombe e presero la città. Dopo sei giorni presero la città. Si poteva avere un servo ebreo per sei anni, il settimo anno era libero. La Bibbia dice che Gesù ha promesso ai Suoi discepoli alcuni di coloro che sono qui presenti non morranno prima di aver visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Marco capitolo 9. Poi si dice che dopo sei giorni li prese con sé ed ebbero una visione in piccolo di quella che sarebbe stata la seconda venuta. Potete leggere dove si dice che Mosè e gli anziani alla base della montagna per sei giorni, mentre la gloria di Dio copriva la montagna e dopo sei giorni fece salire Mosè. Si poteva seminare la terra per sei anni, ma il settimo anno la si doveva far riposare. La Bibbia ci dice che Gesù è il seminatore, che la parola di Dio è il seme. Per sei mila anni Dio ha seminato il seme del Vangelo. Poi verrà Gesù e la condizione del mondo sarà la desolazione. Quando i figli di Israele furono portati a Babilonia, la Bibbia ci dice che rimasero a Babilonia 70 anni. La terra osservava il sabato, riposava mentre era desolata. Nei mille anni del millennio la terra è desolata, osserva il sabato e quindi potrai andare ancora avanti. Il re Joas fu nascosto nel tempio del Signore, il figlio di Davide, da questa regina malvagia mentre lei governò per sei anni. Alla fine dei sei anni, il figlio di Davide, il re, uscì dal tempio. Dov'è ora il nostro re? Dov'è Gesù, il figlio di Davide? È nel tempio del Signore come nostro sommo sacerdote? Uscirà da quel tempio? Michele si alzerà? Joas uscì dal tempio e suonarono la tromba. Suonerà la tromba quando verrà Gesù? La gente esultò. La gente esulterà quando Gesù verrà? Gli empi furono uccisi. Sto parlando della storia di Joas. Gli empi saranno uccisi quando verrà Gesù? E la Bibbia dice che poi ci fu la pace. Ci sarà un regno di pace dopo la venuta di Gesù? Tutte queste storie della Bibbia sono allegorie che ci dicono qualcosa sulla venuta di Gesù. Non durerà per sempre. Il grande climax della storia del mondo sarà quando verrà Cristo e metterà tutto a posto. E poi ovviamente tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. Si legge in Apocalisse 20. Ho un'altra cosa a cui ho pensato. Cosa disse Dio ad Adamo ed Eva se avessero disobbedito nel giardino e mangiato del frutto proibito? Disse perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Adamo ed Eva sono caduti morti non appena hanno mangiato il frutto? No, probabilmente sono subito morti spiritualmente. Qualcosa avvene. Si spense la loro luce perché videro la loro nudità. Ma se un giorno con il Signore è come mille anni, per quanto tempo ha vissuto Adamo? 930 anni. Nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Voglio dire, se Dio vi fa vivere per sempre e morite nei primi mille anni, siete devastati. Voi e io viviamo 70 anni e qualcosa. Ma loro vissero quasi un millennio, ma nessuno riuscì ad arrivare a mille, tranne una persona. Enoch. Tutti gli altri, incluso Matusalemme, visse 969 anni. Perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Quindi il nostro studio di oggi parla di quando il re ritornerà. E parleremo di alcuni dei segni della venuta di Cristo. Non vi daremo una data per il ritorno del Signore, ma parleremo di alcuni degli equivoci nel mondo cristiano riguardo a come tornerà Gesù. Perché questo preparerà molta gente. Si ha un inganno ancora più grande. Perciò dobbiamo capire il tema. Prima domanda. Chi è il re che emergerà presto dal tempio nei cieli? Abbiamo parlato di quando Joas è uscito dal tempio del Signore e hanno suonato la tromba. Tra l'altro, proprio appena prima iniziasse il sabato, al cambio della guardia, poco prima che inizierà il sabato del millennio, Gesù uscirà dal tempio e ci sarà una grande epoca di tribolazione quando Michele si alzerà. Si dice, poi vidi una nuvola bianca ed ecco sulla nuvola stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, il quale aveva sul capo una corona d'oro. Gesù è quel figlio dell'uomo che tornerà. Domanda 2. Verrà in modo silenzioso quando tornerà? Qui molte persone equivocano. Pensano che verrà in segreto. La Bibbia ci dice che la seconda venuta di Gesù è probabilmente l'evento più rumoroso nella Bibbia. Guardiamo solamente alcuni dei versetti che parlano di questo evento. Perché il Signore stesso, prima Tessalonicesi 4.16, con un cosa, potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba, un'altra cosa che si sente, di Dio discenderà dal cielo. Geremia 25.30, parlando dell'avvenuta del Signore, dice, l'Eterno ruggirà dall'alto e farà sentire la sua voce dalla sua santa dimora. Ci sarà un ruggito quando il Signore verrà. Ruggirà con potenza dalla sua dimora, urlerà. Di nuovo, leggete in Salmi 50, versetto 3, il Signore verrà in modo silenzioso? Il nostro Dio verrà e non se ne starà in silenzio. E intorno a Lui ci sarà una grande tempesta. Ci sarà gloria, i cieli si scontreranno. La Bibbia ci dice che il cielo si aprirà come una pergamena, che il sole si oscurerà e la luna diventerà di sangue. Le stelle cadranno dal cielo, la terra vacillerà avanti e indietro come un ubriaco. Le isole saranno inghiottite. Cadranno chicchi di grandine. Non dovrete mandare un sms a qualcuno dicendo, hai visto? Penso che Gesù sia venuto ieri. E nonostante questo, alcune persone credono in uno scenario relativamente nuovo riguardo la seconda venuta. Si chiama il rapimento segreto. Ora, sicuramente avrete letto i libri su coloro che vengono lasciati indietro e ne hanno fatto almeno due film. Era praticamente un insegnamento sconosciuto fino a 200 anni fa. Si è lentamente evoluto dalla cronologia del teologo gesuita da Francisco Ribera e da un altro uomo di nome Escobar, che erano alla ricerca di un'interpretazione sulla controriforma delle profezie per cercare di combattere quello che stava accadendo a causa dei grandi riformatori. Quindi idearono questa versione. Non prese veramente piede fino all'arrivo di un uomo di nome Schofield. Qualcuno ha mai visto la Bibbia di Schofield? Ha molte cose positive al suo interno, ma abbracciava la teologia di Ribera del rapimento segreto e dei lasciati indietro. Un altro uomo di nome Hal Lindsey prese la Bibbia di Schofield, l'ha mise nel suo libro chiamato I Cieli e la Terra Finiranno, che fu a sua volta ripreso da alcuni carismatici e dalla Trinity Broadcasting, che poi iniziarono a insegnarlo e passò dall'essere praticamente sconosciuto ad avere un posto prominente. Ora, l'idea, la parola rapimento, significa essere portati via con forza. Ed è biblica. Saremo rapiti per incontrare il Signore dell'aria. Non c'è nulla di sbagliato nel rapimento. Ma l'idea che ci sia un rapimento segreto e l'idea che Dio ci porti via dal mondo prima, che ci sia una qualche tribolazione, che poi ci siano sette anni di tribolazioni sulla Terra, dove l'Anticristo farà meschinamente di tutto durante questa tribolazione, è semplicemente prepara la gente a essere ingannata. Ho incontrato persone che pensano, beh, se non sono pronto al rapimento segreto, allora passerò la tribolazione e poi avrò un'altra possibilità dopo sette anni. Ho incontrato uomini che dicevano, sì, mia moglie mi dice che scomparirà e io sarò lasciato indietro. Mi dice che se mi pentissi, perlomeno, durante la tribolazione dei sette anni, avrei un'altra possibilità. E sapete cosa vuol dire? Molte persone dicono, bene, penso che mi godrò questo mondo e quando tutti inizieranno a scomparire, allora prenderò le cose sul serio e passerò la tribolazione, ma almeno sarò salvato. Il diavolo, amici, dà alle persone l'idea che ci sia una seconda possibilità. Non c'è nessuna seconda possibilità. Quando Gesù verrà, è fatta. E se volete credere alle cose sicure, credete a quello a cui credo io, perché se credete a quello che credo io e mi sbaglio, perlomeno eravate pronti. Capite cosa voglio dire? Ma penso che ci siano molti versetti per cui sappiamo che non sarà un rapimento segreto. Alcuni dicono, pastore Doug, non si dice nella Bibbia che verrà come un ladro? È vero, si dice che verrà come un ladro. Visto? Rapimento segreto, verrà come un ladro. Ditemi, mentre leggo questo versetto, se sembra che la vita prosegua per altri sette anni dopo che Gesù è venuto come un ladro. Si dice, ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Quando il Signore verrà come un ladro, cosa succederà qui sulla terra? La vita proseguirà? O gli elementi si dissolveranno consumati dal calore quando dice che verrà come un ladro? Perché dice che verrà come un ladro? Perché quando accadrà sarà come una sorpresa. Sono mai venuti i ladri a casa vostra? Io ero un ladro. Lo ero prima di essere cristiano. Sapete, sono nato di nuovo, quindi potete fidarvi di me. Entravo nelle case della gente e rubavo cose. Non ho mai mandato un messaggio dicendo sai sono qui. Quindi era una sorpresa quando succedeva, ma lo sapevano dopo che ero venuto. E quindi non credo sarà un rapimento segreto. Quali altre prove fisiche accompagneranno il ritorno di Gesù? Potete leggere in Apocalisse 16, versetto 18, ci fu un grande terremoto di tale forza ed estensione di cui non ci fu mai l'eguale da quando gli uomini vivono sulla terra. Quindi un potente terremoto. Tutto trema. Le isole saranno inghiottite. Cos'altro accadrà quando verrà Gesù? Chi vedrà Gesù quando tornerà? Solo le poche persone pronte per il rapimento? O la Bibbia dice in Matteo 24, versetto 30, e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio. Vedranno il figlio dell'uomo venire. E cosa faranno? Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria? Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Apocalisse 1, versetto 7. Qualcuno mi scrive sempre nelle domande, pastore Doug. Come potrà ogni occhio vederlo se la terra è rotonda? Non si dice che lo vedranno tutti simultaneamente. Intende quel giorno farà il giro del mondo e rapirà come se aspirasse i redenti. E ci sarà devastazione e distruzione dietro di lui e poi se ne andrà. Tutti lo vedranno quel giorno. È tutto quello che dice. Non dice che tutti lo vedranno nello stesso istante. Quindi tutti lo vedranno. Come sarà quando Gesù tornerà? Non dobbiamo avere dubbi. Quando Cristo è asceso al cielo dal Monte degli Olivi, la Bibbia dice che gli apostoli stavano guardando e che fissavano il cielo con desiderio, vedendo Gesù, il loro amato Signore, che se ne andava in mezzo alle nuvole, fuori dalla loro vista. E anche dopo che se ne fu andato, fissavano il cielo. Improvvisamente fu dato loro un colpetto da parte di due angeli al loro fianco che dicevano, uomini di Galilea, perché siete lì in piedi a fissare il cielo? Notate, qui lo stesso Gesù tornerà nello stesso modo in cui se ne è andato. Tornerà nello stesso modo in cui se ne è andato. Era reale quando se ne è andato? L'hanno visto quando se ne è andato? Stava parlando con loro quando se ne è andato? Sì, ha detto loro andate, ditelo al mondo, ecco, sarò con voi per sempre. Quando ascendeva il cielo, lo era una persona reale. Tornerà nello stesso modo in cui se ne è andato. Quindi non dobbiamo preoccuparci che sia... Sapete, il motivo per cui questo mi fa così andare fuori di testa come pastore è... La Chiesa era pronta quando Gesù è venuto per la prima volta. La prima volta volevano che venisse come un leone, che venisse e conquistasse i Romani, che venisse e suonasse la tromba e che potesse il mondo e scegliesse Israele come re della terra. Ma è venuto in silenzio come un agnello. E non l'hanno accettato. Non erano pronti perché non avevano capito le profezie. Ora Gesù si sta preparando a tornare come un leone, con una tromba, come un re, e la Chiesa dice no, verrà in silenzio questa volta. Vedete? Il diavolo è sempre all'opera per fare in modo che la Chiesa fraintenda le profezie, così da non essere pronta. Era pronta quando è venuto la prima volta? No. E molti sono periti perché non erano pronti. Quindi accadrà lo stesso. Chi sarà con Gesù quando tornerà nelle nuvole? Non verrà da solo. Matteo 25, versetto 31. Ora, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti, quanti? Tutti! Tutti! I santi angeli! Ricordate cos'è successo quando alla resurrezione è venuto un angelo e fece rotolare via la pietra e le guardie romane presenti caddero come morte e scapparono terrorizzate per aver visto la gloria di un angelo? Un angelo del Signore andò nel campo siriano e uccise 185.000 soldati. Un angelo! Quando il Signore verrà con tutti gli angeli, nessuno dovrà dire, hai visto il giornale ieri? Penso Gesù sia venuto. Ed era pieno di luce. No. Lo sapranno tutti. Cosa farà la luce di Gesù che viene agli empi in vita? Secondo Tessalonicesi 1,7. Quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio. Lo conoscete? La vita eterna vuol dire conoscere il Signore. Dirà ai perduti che non li conosce. Vi state prendendo del tempo per conoscerlo? Perché sta per venire. Poi continua a dire in secondo Tessalonicesi 2,8. Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. Quando verrà, la luce della sua venuta distruggerà gli empi. Pi cosa accadrà ai giusti che sono morti al momento dell'avvenuta di Gesù? Questa è una buona notizia. La Bibbia dice quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si sveglieranno, alcuni per la vita eterna. Sono i morti in Cristo. Si legge in Apocalisse capitolo 20 che è la prima resurrezione. Ovunque esista una prima, poi c'è anche cosa. Una seconda perlomeno. Non vorrete essere nella seconda resurrezione. A questo punto, cosa succede ai viventi e ai santi risorti? Tutti coloro che sono salvati e ai santi in vita. Si parla di una trasformazione che accadrà ai loro corpi. Dice, i morti risusciteranno incorruttibili e noi che siamo vivi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile, questo corpo che invecchia, che ha le rughe ed è decrepito, rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Sarà mutato in un batter d'occhio per coloro di noi che saranno vivi. E poi dice, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrarli nell'aria. Di nuovo sembra un segreto? Tutto questo denota un evento molto reale, ovvio, conosciuto. E forse avrete sentito delle storie. Che gli aerei cadranno nei cieli perché i piloti erano cristiani e non ci sarà nessuno a pilotarli. E le macchine si schianteranno per strada perché i cristiani scompariranno e rimarranno i vestiti al posto dei guidatori, sapete? Vi sveglierete all'improvviso e vostro marito sarà scomparso. I suoi vestiti saranno ancora lì, ma lui se ne sarà andato. Sapete dove vogliono arrivare? Gesù ha detto, parlando della seconda venuta, ha detto, due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Poi Luca aggiunge un terzo scenario, due dormiranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Cosa vuol dire? Cosa rappresenta la donna nelle profezie bibliche? La chiesa. Quanti tipi di chiese ci sono? Ce ne sono solo due. Se andate ad Apocalisse, ci sono due donne, Apocalisse 17 e Apocalisse 12. C'è quella vera e quella falsa. Due diversi Vangeli. Cosa fanno le donne? Macinano il grano, si dice. Lavorano con la parola. Una è vera e una è falsa. Apparentemente sembrano uguali, ma una è pronta e l'altra no. Dice che ci sono due uomini che lavorano nei campi. Cos'è il campo? Il campo è il luogo dove lavorano i missionari. State seminando. State mietendo. Ci sono due tipi di persone che compiono il lavoro missionario, vere e false. Gesù dice che ci sono due padroni, due strade. Ci sono due opzioni, o state con me o contro di me. Giusto? Poi si dice che i due dormono in un letto. Cosa rappresenta il sonno? La morte. Quanti tipi di persone morte ci sono? Due. I salvati e i perduti. La prima resurrezione, la seconda resurrezione. E quello che è davvero interessante è che alcuni vengono presi e altri lasciati. Spesso si pensa che quelli che sono presi sono presi dal Signore. Ma nel modo di pensare ebraico, ogni volta che le persone disobbedivano arrivavano i nemici e le portavano via in Assiria. Le portavano via in Egitto, le portavano a Babilonia. Le portavano via. La Bibbia dice che non sapevano nulla del diluvio fino a che non venne e li portò via. Gli empi. Quindi essere portati via vuol dire essere portati fuori dalla terra promessa, fuori dal luogo della pace. Quindi ci si confonde anche sul concetto di essere presi. Si parla di essere portati via e si dice dove vengono portati, Signore? Dove stanno gli avvoltoi? Dove c'è il corpo? Ecco dove si riuniscono gli avvoltoi. Non vorrete essere portati via, vero? Quindi la Chiesa è così confusa riguardo le scritture che parlano della seconda venuta. Cosa faranno gli angeli alla seconda venuta di Gesù? La Bibbia dice ed egli manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti. Vuol dire nord, sud, est, ovest. E li porteranno al Signore. Saranno rapiti verso il Signore. Visto che viviamo proprio prima della seconda venuta di Gesù, come dovremmo rapportarci a questo evento solenne e glorioso? Quanti di voi hanno sentito una presentazione del genere prima d'ora? Sulla seconda venuta sicuramente. Vi ha cambiato un pochino? Perché parliamo della seconda venuta? Alcune persone dicono, beh, quando viene, viene. Non preoccupatevi di questa venuta. Beh, personalmente sono quello che chiamereste un avventista del settimo giorno. E questo significa che siamo entusiasti dell'imminente venuta di Gesù. Gesù ci ha detto di andare in tutto il mondo, di insegnare e battezzare. Vuole che questo mondo sappia che ha un tempo limitato e che dobbiamo prepararci. E se non altro, la vostra vita ha una quantità di tempo limitata e dovete prepararvi per il Signore per voi stessi. Quindi abbiamo un messaggio, ma questo mondo non durerà per sempre. E questo ci parla anche della bontà di Dio. Non sarebbe terribile se il peccato, il dolore e le sofferenze fossero immortali. Il fatto che Gesù venga di nuovo è una buona notizia e anche il fatto che tutto si risolverà. Grazie a tutti.